PC è il classico family business se così si può dire quest'anno è il cinquantesimo quindi grazie quindi insomma c'è una lunga storia si parte dal 1970 io sono io mio fratello facciamo parte della seconda generazione e l'azienda è stata fondata dai nostri genitori Paolo e Mario nel 70 erano appena fidanzati all'epoca si facevano questi colpi di testa si avevamo un'idea e si metteva in pratica loro sono riusciti a metterla in pratica e sono partiti da un'idea fondamentalmente di mia mamma che aveva un negozio e pensando a quello che non riusciva a trovare per i propri clienti ecco da lì che viene la propria esperienza è sempre un bagaglio per andare oltre e disse ma io proverei a proporre qualcosa qualcosa all'epoca i bambini comunque certo nascevano e si curavano ma adesso per carità ma c'erano meno accessori si stava un po meno attenti ecco al dettaglio disse ma nel lettino invece che andare a coprire il bambino insomma con la coperta di lana magari fatta a mano e tutto pensiamo a un piumone dal letto perché è sempre stato il nostro core business il piumone al letto e per portarlo a giro perché non pensiamo un portanfan un po più lezioso meno di servizio così fece disse ma proviamo un una persona una grande persona era al nostro fianco ha detto senti io vado giro e provo così e dopo due mesi la mia mamma si trovò a dire e ora come faccio a spedire questi ordini e ora come cosa facciamo e quindi iniziò tutto da lì si era appena conosciuta con mio babbo in sei mesi hanno aperto un'azienda si sono sposati e dopo un altro anno è nato mio fratello quindi si facevano queste colpi di testa però insomma erano bei colpi di testa e da lì è partito tutto la prima fiera di milano e così via